Lo scorso fine settimana la Scherma Dolomiti ha partecipato all'Endinara in provincia di Rovigo alla Coppa di Primavera e al campionato regionale Master riservato alla categoria over 40. La squadra belunese ha schierato per la Coppa di Primavera manifestazione preagonistica dedicata alle categorie esordienti e prime lame Gabriele De Biasi, Gian Battista Mares ed Elisabetta Rosso. Nella categoria over 40 nella disciplina della spada il miglior risultato è stato ottenuto da Maurizio Nani che ha conquistato il secondo posto nella gara per il titolo regionale. Dopo un'ottima fase a gironi terminata al quarto posto della classifica generale il portacolori della Scherma Dolomiti ha superato brillantemente le fasi successive giungendo in semifinale dove ha incontrato Salvatore Tiralongo della Scherma Treviso. Inizialmente in svantaggio Nani ha saputo recuperare vincendo con il punteggio di 10 a 7. Il notevole dispendio di energie lo ha però tradito nella finale dove non è riuscito a imporsi sul più giovane atleta Enrico Bottaccina di Castelfranco Veneto. La Scherma Dolomiti per far conoscere le discipline del fioretto e della spada sta organizzando nelle giornate del 31 marzo e del 7 aprile nella palestra di Ponte nelle Alpi un Open Day dedicato ai bambini a partire dai 9 anni.